Io voglio tutelare il mio video perché passando da là ho fatto il video e non è di certo una burla e non di certo mi sono messo d'accordo con quel ragazzo, quell'operaio che stava facendo quelle cose. Ieri Galeotto fu il video, oggi risoluto è chi lo registrò. Il vibonese Antonio Lobbianco non ci sta a passare per un falsario dei social network. Non si pensava se arrivasse a tanto, ha fatto intorno alle 13.000 visualizzazioni. Il post che mostra il modo artigianale insicuro con cui si disegnano le strisce blu è diventato un'altra curiosa appendice delle polemiche sui parcheggi dopo l'accusa della società che gestisce il servizio. Ma no, le strisce le hanno fatte con la macchinetta, quello si vede che è un falso. Lobbianco difende l'obiettivo dissacrante del suo telefonino però. Mi è sembrata una cosa un po' stupida quella che stavano facendo, ho preso il telefonino e l'ho ripreso. Il video l'ha lasciato su Facebook ma non cerca polemiche. È da ammirare anche la ditta appaltatrice che fa le cose perché sta dando posti di lavoro e tutto. Figuratevi se io andavo a fare una cosa contro. Basta un sopralluogo sul Viale Kennedy per rendersi conto che la pittura blu su quella bianca dà l'effetto arcobaleno. Il telefonino di Lobbianco è stato implacabile ma la macchinetta che la ditta dice di aver usato andrebbe senz'altro ricalibrata. Agostino Pantano per la C News 24